257 persone controllate, 109 veicoli passati a Regi X, 15 soggetti a domiciliari, 27 solviati speciali e 9 in libertà vigilata esaminati, elevate 30 verbali al codice della strada, 2 gli arresti e 3 le denunce. E il bilancio conseguito dalla Polizia della Locale Commissariato, diretto da Francesco Marino, nell'ambito di un'attività anticrimine di Polizia Giudiziaria e Amministrativa con l'ausilio di 4 pattuglie del Nucleo Prevenzione Crimine di Palermo. Manette per Rocco Cavaleri, 41 anni. L'uomo è stato posto a domiciliari in esecuzione ad un ordine emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Gela. Deve scontare 5 mesi e 28 giorni per un furto commesso a Caltanissetta il 22 ottobre del 2012. Destinatario di un altro palvedimento restrittivo è il 39enne Rocco Graziano Argetta. La misura è stata emessa dalla Procura della Repubblica di Ragusa. In carcere dovrà espiare un anno, tre mesi e 16 giorni per essere stato ritenuto colpevole dei reati di rapina, lesione personale aggravata e ricettazione in concorso con altri commessi a vittoria nel novembre del 2013. Una gelese di 32 anni dovrà rispondere dall'incendio di un'auto avvenuto lo scorso mese in città. Detenzione di superfacenti è invece l'accusa mossa ad un ragazzo di 19 anni. Durante un controllo su strada è stato trovato in possesso di 8,6 grammi di hashish. Un cittadino rumeno di 52 anni, residente a Gela, è stato segnalato per ricettazione e era in possesso di oggetti e documenti di provenienza furtiva. Nell'ambito degli specifici servizi, l'ufficio della Polizia Amministrativa e Sociale ha effettuato controlli ai locali di intrattenimento del lungomare e del centro storico. Tre le attività commerciali ispezionate, due le infrazioni contestate e 29 le persone controllate.